Vic Damone, che piace alla madre di Anna Maria. Il 24 novembre 1954, Vic porta Anna Maria all'altare. Qualcuno riferisce che Jimmy, nascosto, spiava disperato la fine di una pagina d'amore che avrebbe voluto scrivere con Anna Maria. Che si celebrarono nel 1962. Tre anni dopo, il divorzio. Il suicidio trovaiò li stupi tutti con queste parole. Questa donna mi ha fatto troppo male per poter piangere e rimpiangere. Forse un giorno potrò perdonarla, oggi no. Perché queste parole? Trovaioli su questo episodio non ha voluto e non vuole tornare. Il fantasma di Jimmy aveva forse travolto una persona, Anna Maria. Ma veniva già esaltato come un culto.